Oggi il Consiglio ha lavorato molto e sicuramente ha deliberato parecchie cose interessanti, fra cui il testo del sistema unico italiano. È soddisfatto? Sì, molto, che ho invitato a esporre tutto il progetto Federico Roman, che ha sostituito Tabarini, che è rassente, che ha illustrato tutto in maniera pregrigia, che abbiamo terminato con un applauso da parte dei consiglieri, perché questo, che è una pietra migliare della nostra gestione, sarà un cambiamento epocale che l'Italia non ha mai avuto. Per cui, con questa iniziativa, penso che finalmente cominciamo a mettere una pietra sulla crescita dell'Italia. È stato un consiglio duro e da stamattina... No, molto piacevole, divertente. Ho fatto i complimenti poi da tutti i consiglieri, perché ci siamo divertiti parlando di cavalli per tante ore. È stato molto piacevole, tutti molto interessati e coinvolti. Presidente, fiscalità, trasporti, professioni degli istruttori, tesseramento. Sembra che nel prossimo futuro lei debba ricostruire parecchia roba. Sì. Da cosa si inizia? A tutte. Perché sono tutte equamente importanti. Non c'è una cosa che prevale sulle altre. Direi che la più importante di tutte è quella del sistema unico italiano, l'insegnamento per il nostro sport. Però per far vivere e far crescere tutta la federazione e l'attività federale sono tutte estremamente importanti. Forse quella che ci spenta di più è la fiscalità, che sappiamo che siamo alla merce di situazioni che variano da zona in zona, che questo non va bene. e quindi mi riprometto di portare avanti questo discorso in maniera molto efficace e determinata. Grazie Presidente. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie.